Affronteremo la Finlandia, questa è una partita in cui non sono ammessi errori in quanto ci giochiamo il terzo posto del gruppo, siamo obiettivamente in difficoltà perché oltre agli infortuni prima della partenza di questo Tour de Force abbiamo vari acciacchi tipo Stavellini a Scorcic, però quest'ultimo dovrebbe rientrare mercoledì. Come ho detto siamo in difficoltà ma comunque la cosa che non ci manca, non ci è mai mancata in ogni nostra uscita è la voglia di vincere e cercare di dare il massimo. Poi ovviamente vittorie, si può vincere, si può perdere, però usciamo sempre dal campo a testa alta e consapevole di aver dato tutto. Ripeto, mercoledì sarà una partita molto difficile perché come per noi anche per loro c'è in palio il terzo posto che comunque è importante. Per noi lo è tantissimo e speriamo di far bene, non sarà facile come nessuna partita, però ripeto, noi siamo qui con la voglia di cercare sempre di far bene. A volte ci riusciamo, a volte meno, ma comunque abbiamo la voglia di dimostrare l'attaccamento a questa maglia, come abbiamo sempre fatto.